Allora, let's go. L'argomento era gioco d'azzardo. L'argomento era Marza dice cose. Ah, così? Sì, grazie Arca. Un libero pensatore che si esprime. Speriamo che non ha fatto il pezzo di magma. No, 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 no. Mi è capitato di giocare un film magari perché, che cazzo ne so, prendo e vado, non lo so, è venuto qua a Nezac e sei mannati al casino perché dove vai? A beve? Non bevo. Vai in discoteca e mi fa cacare. Ma perché è diventato mezzo romano? Sei mannati al casino, mezzo romano è diventato Marza. Forza resta romani. È stato comunque, sei sempre stato con, che ne so, Power ai tempi. Grazie Maddalena, vero, vero. Quindi comunque l'ho sentito spesso, sì, un minimo ce l'ha sempre avuto, se non sbaglio è pure vissuto a Roma un po', però non così marcato, non lo so, gli è partito il romanaccio. Se ho intuito bene sta dicendo che, cioè, sta giustificando il suo voler giocare d'azzardo dicendo che andare in discoteca lo annoia e altre attività ludiche lo annoiano, quindi è una sorta di giustificazione per andare a giocare d'azzardo. Sì, poi per giocare d'azzardo non è che devi giustificare, diciamo che poi ha legato questa cosa a... Uno perché sente che si debba giustificare? Perché ovviamente, adesso lo capirete, mi fa ridere che c'è... Sì, magari perché, che cazzo ne so, prendo e vado, non lo so, è venuto qua a Nezac e sei mannati al casino perché dove vai? A beve? Non bevo. Vai in discoteca e mi fa cacare. Fuori fa freddo. Vai, va a troie. Sarà pure legale, va a fare una scopata. Casino. Però è sempre, è sempre tutto, cioè per me è un intrattenimento come mettermi al cinema, capito? Perché gestisco i soldi che posso spendere, che se per te sono tanti sono cazzi tuoi però. Mi pensi del cinema accostato a una live dello slottarolo. No, lui parla, in questo momento lui dice proprio andare al casino. E non mi sto riferendo a lui come con slottarolo, eh. Cosa penso del paragone? Eh, del paragone cinema con live di gaming. Beh, che ognuno si diverte come vuole, però ci sono persone più meritevoli di ossigeno rispetto ad altri. Che non è la cifra a decretare se sei malato o no. E tu non ti sei mai pentito di aver fatto il casino su Twitch, eh? Io ho smesso di farlo non perché io mi sia pentito. Ma perché, come ti ho detto prima, ero troppo sotto il riflettore e mi sta sul cazzo. Perché tu troppi si sentivano in diritto di mettersi in bocca al nome mio senza conoscere un cazzo di me. E rispecchia un po' questa frase, anche quella che ha scritto il ragazzo che ho citato prima, no? E lui disse anche in passato, proprio riferimento a noi, eh, vi mettete in bocca il nome mio con insulti e minacce di morte al seguito, no? Allora, mettersi in bocca il tuo nome, Marza, non lo so, forse ti piace il paragone con un bocchino, non lo so perché. Cioè, lo vedo molto concitato nel momento in cui comincia a disegnare con le sue parole questa raffigurazione del suo nome in bocca a qualcun altro, no? Lo immagino un po' come un pisello in bocca. Secondo me è una cosa interessante, cioè proprio il nome di Marza a forma di pisello, no? In bocca. È tipo quando una donna ha il tuo pene in bocca e vuole dire il tuo nome. Marza! Sì, però hai fatto qual è, caro Marza, che, cioè, qual è il problema? Cioè, ho smesso di fare i casinò, sentite che follia, ho smesso di fare i casinò, non per il decreto dignità, anche perché poi lui è andato. Ci ringraziasse allora, sennò lo bannavano, come la vogliamo mettere, vogliamo fare il giochino? Lui è andato anche fuori dall'Italia, quindi in realtà ci sono tante postille, anche in relazione al decreto dignità. Si rivolge ad un pubblico italico, quindi può andare pure su una Mac, su Marte. Eh, per quello stavo dicendo, perché in realtà è un po' come una questione IVA di Big Luca, dipende il tuo pubblico di riferimento. Se tu fai contenuto in lingua italiana per italiani ovviamente non è che scompaiono le problematiche, però al di là di quello, della sua... A parte che devi rendere conto alla piattaforma che, ripeto, ha bannato a tappeto quelli là che continuavano a fare solamente live casinò, appoggiandosi peraltro anche a siti non opportuni, secondo la legge. Io penso che il gioco d'azzardo sia immorale, che la gente sappia sotto sotto che sia immorale perché sa i danni che può fare a se stessi e agli altri, e trovi come dei funambuli mille scuse per giustificare il proprio comportamento immorale. È giusto che sia stato fatto il decreto dignità, meno male, e non capisco di che dobbiamo parlare rispetto a Marza, perché io non mi metto il suo nome in bocca mai. Non me ne frega proprio niente. No, a me invece frega del fatto che, come dici tu intanto, si debba cercare una giustificazione che ovviamente non cercheresti nel momento in cui tu fossi consapevole di non fare nulla di sbagliato, chiaramente, e mi dà fastidio anche questa presunzione di intoccabilità. Certo. Cioè, un po' come anche il discorso dei Cicalone che abbiamo fatto più volte, o di altri personaggi che... Blur, quando ne abbiamo parlato, no? Grazie a me. Nel senso che lui vuole dare la percezione che guai a chi solo mi nomina. Certo, ma questa è ridicola come cosa. A parte che l'ha detto esplicitamente in passato, ma soprattutto... Non lo sapevo. Sì, sì, è rivolto a noi. È una prepotenza questa. Sì, l'aveva detto proprio, ma sta anche in un intro, non mi ricordo quale, grazie, 92, in una villa in song, no? Se vi mettete ancora il mio nome in bocca, v'ammazzo tutti, una roba del genere, no? Mortacci. Sì, sì. Mi ero dimenticato. Sì, sì, me la gioco. Però è ovvio che sia una giustificazione imbecille, no? Questo lo possiamo dire? Cioè, il fatto che lui dica, no, io ho smesso, rimanendo inizialmente stunnato dalla domanda di Grembaud, io ho smesso di fare Casino, perché troppa gente c'aveva il nome mio in bocca. È una stronzata, perché se tu sai di star facendo una cosa retta, onesta, pulita, non ti senti in colpa, adesso anche a tantissimi spettatori. Quindi il nome in bocca lo avranno comunque altre persone, no? Ma che giustificazione è? Cioè, è come se una persona sa che sta facendo qualcosa di sbagliato e dice, ho smesso solo perché c'è qualcuno che mi sta a rompere il scato? Che me caga il cazzo, esatto. Non ha senso. Devi capire che hai sbagliato. Anche perché dopo dirà un'altra stronzata, tra le tante, al netto di un discorso in realtà abbastanza sensato, seppur elementare, sulla decontestualizzazione di alcune clip su TikTok, eccetera, Grembaud puntuale qua, devo dire, anche perché ultimamente Marza sta andando virale su TikTok con sue, diciamo, frasi, punchline, risposte un po' così da Edgelord. E quello ovviamente fa comodo, quindi il nome in bocca fa comodo, non fa comodo quando qualcuno ne parla in maniera critica, ovviamente va bene così. Cioè, è un po' la solita mentalità melacudiana. Io dico, quello che cazzo mi pare, sono brutale, impongo questo campo da gioco, ma mi lamento quando ne subisco le conseguenze. Una roba a me fa proprio indiavolare, come una bestia. Il pubblico di pecoroni che continua in questa direzione, no? Ma non siete parlati, non siete mal informati, per fare un esempio, ma non ce l'ho con quel ragazzo o con quella ragazza. Però è proprio esemplificativo del fatto che siano delle pecore che purtroppo fanno male al pastore, perché poi il pastore di turno si trova ogni tot mesi a dire sto male, sto così, sto cosà, sto depresso, non ho amici, non ho magari prospettiva per futuro, non ho voglia. Perché? Perché purtroppo lavorare e costruire il proprio lavoro basato su persone a critiche, ovviamente ti impoverisce, ti toglie degli strumenti. Comunque, ci sono delle stronzate, cioè sto ascoltando delle stronzate che vengono diffuse con una cassa di risonanza potentissima, semplicemente per tentare di spegnere qualsiasi dissenso, qualsiasi opinione distante da quella del dio Marza, del dio Y, X e di tutta quella criccaccia là. Questo è il punto. Perché, adesso lo ascolteremo, grazie Aga, oltre a questa giustificazione che è ovviamente ridicola, è ovviamente imbarazzante, no? Ho smesso di fare tanti soldi, io amo il casino, faccio uno statement al casino, mi piace, non me ne vergogno, non mi vergogno di quello che ho fatto, però ho deciso perché il cerbero ne palla, perché poi troppa gente e il nome in bocca, gli unici stronzi che parlano di queste cose siamo noi, eh? Si sentivano in diritto di mettersi in bocca il nome mio senza conoscere un cazzo di me. Adesso è bannabile. Eh no, e lo vedi? Sei caduto nella trappola. Allora ho bannato tre siti, non è bannabile il casino. Ah, Dio mio, Dio mio. È caduto nella trappola Grimbaud, eh? Per una volta che invece ho fatto un intervento sensato, poi uno dice, no, te metti il nome su in bocca, ma se dici stronzate in una live vista da tanta gente ed è anche una disinformazione grave... È più convincente Marza in questo scenario se uno... Cioè io ti dico, non so nulla, è più convincente lui. È ovvio, perché ha quella sua tracotanza e anche quella sua saccenza del cazzo che ad un pubblico di imbecilli arriva come verità. Ma quale sarebbe questa trappola? La trappola... Ogni volta c'è una trappola, c'è fatto caso. Non c'è mai la trappola della responsabilità, però. Vedi, responsabilità. Non funziona così, eh? Esatto, sono dei re senza però quella parte iniziale nelle parole importanti, eh? È ovviamente falso, è ovviamente falso quello che sta dicendo Marza. Perché? Perché in Italia è vietato giocare su siti che non siano in determinate liste. quando Joker, anche nel candauna che abbiamo messo oggi, quando Joker disse io gioco in siti che non è in licenza, c'è una lista di siti. Lasciamo perdere anche qua la morale, perché lo Stato può mangiare sul vizio dalla ludopatia e gli altri, no? Io qua sto parlando di legge e lui sta dicendo una stronzata. Hanno bannato tre siti. Allora Marza, tanto bisogna distinguere la legge italiana o a chi si rivolge al pubblico italiano, perché poi sto discorso non vale solo per Marza, vale per tutti. Anche altri che streamavano in Svizzera hanno avuto lo stesso problema. Grazie Gici. È un pubblico che è italiano. Se stai in Italia e fai stream tipo Zeppu89, potresti comunque, però magari sono meno probabilità. Esatto, sono d'accordo, Giorgio. Però c'è chi un minimo se lo può permettere di esserlo. Comunque, lui sta dicendo ovviamente, no, vedi che sei di una cazzata, sei caduta in una trappola, mica è bannabile il casino. No, no, infatti non hanno fatto fuori 40 canali dall'oggi al domani, Marza, certo. Non è che sono bannabili determinati siti. Determinati siti in Italia non si possono usare da sempre, solo che nessuno ha fatto rispettare le leggi. Oltre a questo, caro Marza, oltre a quei siti lì, tu non puoi sponsorizzare in maniera diretta o indiretta, nessun gioco ha premi. Non lo puoi fare, diretta o indiretta. E ovviamente quello che facevate voi era una sponsorizzazione. Ci siamo fino a qua. Mi sa che è accaduto una trappola di ignoranza. Poi diretta o indiretta lo stabilisce un tribunale. Ciò detto, prima ancora dei tribunali, Twitch Italia, tu forse sei salvato perché stavi già in Portogallo, non lo so, ma comunque tanti streamer italiani, alcuni no, che hanno continuato a streamare in Italia, ma non è quello. Il mio amico o mio d'ho compreso. Ma tanti canali sono stati seccati. Perché? Perché Twitch Italia ha ricevuto... Toc toc, tipo porro, toc toc, provvedimento governativo. Bisogna far rispettare il decreto di dignità. Questi streamer non possono fare quello che stanno facendo. Che volete fare, amici miei? Bene, hanno buttato giù tanti canali, compreso il nostro amico Gabronski. Ci siamo fino a qui? Compreso Tony Tubbo, compreso Mr. Cico e tanti altri. Perché? Perché non lo puoi fare in Italia. Quindi hai detto una stronzata e hai fatto disinformazione. Ci siamo fino a qui? Poi uno dice, devi avere il nome in bocca. Eh, amico mio, e allora non fare le live? Che cazzo ti devo dire? O non dire stronzate. Non essere un personaggio pubblico. Anche perché mi pare che Marza, finché non entra in questi discorsi, dai, non viene citato. Anzi, quando viene citato, viene citato anche simpaticamente. Perché a me fa pure ride, eh. A me non dispiace neanche come streamer. Mi è sempre piaciuto, ma non ne ho fatto mai segreto. A me è sempre stato simpatico. Però non è che uno può distronzate e poi, eh, però non ti metterlo in bocca mia. Eh, ho capito, amore mio, ma no, no, non ti cazzate per paracularti. Perché è ovvio che pure qua, no, mica è così, eh. Mica ho smesso perché era bannabile. Ho smesso perché mannava a me, hanno bannato tre siti. Sei caduto nella trappola? Ma quale trappola? Allora continuo. Cazzaro. Cioè. Cazzaro. 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 Cazzaro.